Ben ritrovati al consueto appuntamento d'incontro, quest'oggi vi presento l'autore di un libro che ricorda un sindaco di Belluno assai noto, si tratta di Giuseppe Viel che è stato sindaco negli anni 70, ma poi ha rivestito molte altre cariche. Chi poteva ricordare la figura meglio del figlio? Angelo che è in studio e che ringrazio naturalmente per la disponibilità. Quando ti è venuta l'idea di fare questo libro? Il libro era da tempo nell'idea di farlo, solo che ci voleva tempo, bisognava un po' riordinare le carte per avere un po' il quadro di tutta la situazione ben chiaro. Tu l'hai fatto anche per riconoscere tutti i meriti di tuo padre come amministratore? Sì, ovviamente sì, non solo come amministratore perché aveva anche tanto altro nel curriculum. Effettivamente una volta ricostruito un po' tutto ho portato a termine l'opera e è arrivata a termine forse nel momento più giusto nel centenario della nascita. Quindi sono stato contento e orgoglioso di essere riuscito in questa per me un'impresa, perché io non sono uno scrittore professionista, anzi diciamo che scrivere non è un dono di natura per me, ma qua ho dovuto fare di necessità virtù. Senti, tu hai corredato con il libro di tante foto, sono tutte foto di proprietà vostra? Sì, è tutto repertorio di casa e ne ho ancora tante, prima o dopo dovrò anche riordinare anche quelle, comunque ho inserito quelle più significative e comunque mi pare che il libro è stato arricchito abbastanza bene con queste foto. Tuo padre era un rappresentante della democrazia cristiana che imperava nella nostra provincia, è stato sindaco da che anno a che anno? Allora, lui è stato sindaco dal 74 al 76, poi è sopraggiunta la crisi ingiunta e dopo è stato sindaco da metà del 1979 agli inizi del 1980, quando dopo in pratica si è formata una nuova giunta, c'è stato l'accordo tra i partiti e hanno formato un nuovo governo della città. Senti, è una persona che ha fatto soffrire la sua carica pubblica perché è molto difficile essere così in vista e che questo non ricada in famiglia o riusciva a distinguere bene l'una e l'altra? Ma no, lui non ha mai fatto pesare il discorso della carica pubblica. Diciamo che anche a livello locale, lui anche quando era sindaco era praticamente uno di loro, uno della gente, non si distanziava dalla gente, manteneva sempre un basso profilo, quindi non ha fatto pesare sicuramente in casa, anzi per noi è stato un buon padre di famiglia, questo lo dobbiamo ammettere. Senti, sempre impegnato però nell'amministrazione, qui leggo che dal 1946 all'88 è sempre stato coinvolto comunque nella gestione del bene pubblico. Sì, lui è stato per 42 anni ininterrottamente presente nel Consiglio Comunale, è stato eletto alle prime elezioni del dopoguerra, alle prime elezioni comunali del 1946 e da allora è stato rieletto nel 51, nel 56, allora ha iniziato anche nel 55 a fare le prime esperienze da assessore all'assistenza, al commercio e alla sanità. Poi dal 56 al 64 è stato assessore ai lavori pubblici e in parte anche assessore, cioè negli ultimi 4 anni assessore all'urbanistica e all'edilizia privata oltre che lavori pubblici. Senti, qui vediamo alcune foto, prima c'era il pontefice Giovanni Paolo II, questo Pertini, ha incontrato personaggi importanti. Sì, diciamo che la cosa più gratificante dell'aver fatto politica è proprio stato questo, che nella sua veste di semplice amministratore locale… Qui con Albino Luciani, prego, prego. Sì, lui ha incontrato, ha avuto l'onore, perché l'onore principale è stato quello di incontrare il Papa quando è stato sindaco nel 1979, il 26 agosto, quando Papa Giovanni Paolo II è arrivato a Belluno. Quello è stato il momento dove per lui ha raggiunto il massimo della soddisfazione, perché lui fedele cristiano, perché i principi cristiani, gli ideali cristiani sono sempre stati il traino della sua vita. Quell'evento ha rappresentato per lui proprio l'apice della soddisfazione. Anzi, io ho precisato nel libro che si vede che è proprio stato un segno quasi miracoloso, perché dopo le disavventure, perché è stato un impegno non indifferente aver gestito il Calcio Belluno negli anni precedenti per un anno di Serie C e due di Serie D, aver avuto questa gratificazione, perché la chiamo così, è stato quasi un dono del signore, è stato un momento magico. Senti, io volevo arrivare dopo a questa gestione del Calcio Belluno, perché la squadra del capoluogo è riuscita a salire in Serie C. Sono stati anni bellissimi, 8 mila persone che seguivano le partite, quelle naturalmente più importanti, poi come spesso accade, si è andati un pochino oltre quelle che erano le capacità e tuo padre è arrivato in un momento particolarmente complesso e ne ha subito anche le conseguenze. Molto, in pratica siamo a metà anno 1975 e la loro gestione del Calcio Belluno va in crisi e decide di chiudere i battenti e consegna la squadra al sindaco di Belluno, che era mio padre. Lui poteva anche rifiutare la squadra, ma lui ha un profondo senso di responsabilità ed è un grande sportivo e quindi si mobilita per trovare soluzioni, fa riunioni a destra e a sinistra con operatori commerciali, con ditte, con enti e quant'altro, ma non si riesce a trovare chi prende in mano il Belluno e a un certo punto, pur di non vedere la squadra sparire e lo stendardo del Belluno ammainare, come viene detto, decide a un certo punto di prendere lui in mano la squadra come commissario, anche perché c'erano stati dei contributi nel frattempo da parte di operatori economici e questo lo aveva anche invogliato a far qualcosa in più. Doveva essere comunque un impegno di pochi mesi, uno o due mesi massimo e purtroppo si è rivelato un impegno di tre anni molto arduo, difficile, che è pesato tutto sulle spalle, diciamo meglio, sul suo portafoglio. Perché aveva firmato delle garanzie? No, non ha firmato delle garanzie, lui in pratica ha assunto la gestione come commissario speciale della Cibeluno, ma non era una società, quindi l'unico responsabile era lui, non c'era una società, lui era l'unico responsabile economico e quant'altro, quindi non c'erano altri e doveva rispondere lui. Doveva essere una carica interlocutoria, come ho spiegato anche nel libro, ma alla fine nessuno subentrava, lui cercava persone più facoltose e ambienti, perché noi non avevamo certo grosse disponibilità finanziarie, lui aveva messo la sua buona volontà, però è andata così, comunque ha raggiunto lo scopo, non è sparito il calcio Belluno, pur con tanti sacrifici, dopo tre anni è riuscito a traghettare il Belluno dalla Serie C al campionato di promozione e ha avuto qualche soddisfazione nonostante… Sì, l'abbiamo visto anche che accompagnava con la solita foto della squadra schierata e c'è sempre a fianco il Presidente, in questo caso era il Commissario. Senti, abbiamo già capito che era una persona che certo non stava ferma ed era interessata, peraltro loro i partiti chiedevano questa disponibilità a tutto campo, a coloro che erano iscritti e quindi qualche anche carica in qualche altro ente, in quale? Sì, lui nel 1969 è stato nominato Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, è stato un buon momento per lui, lo ha gestito bene, ci sono stati interventi molto importanti realizzati in quel periodo, ho citato quelli di Via Dolabella a Cavarzano, quelli di Vessano e sono stati cinque anni di soddisfazioni, quello è stato l'Istituto Autonomo Case Popolari che ora è Ater, aveva partecipato al recupero di parte di Longarone dopo il disastro del Bayonte. Sì, naturalmente chiunque abbia una carica alla fine si guarda attorno dove abita e capisce che qualche intervento va fatto, voi siete della parte alta della città di Belluno, la zona di Tisoi e lì nel libro segnali che ovviamente ha avuto una certa attenzione per il luogo, per il posto dove è nato, quali sono le opere più significative? Di opere ce ne sono state tante, elencarle non è facile adesso, le ho elencate nel libro, Diciamo che per quanto riguarda Tisoi c'è stato un forte interessamento che ha avuto soprattutto nella parrocchia dove è stato importante il suo apporto da prima, dopo gli anni, cioè verso la metà degli anni 40 come fabbriciere fino alla fine degli anni 70 quando aveva intravisto la possibilità di realizzare opere un po' più corpose tipo la stessa sistemazione abbastanza corposa della chiesa di Tisoi e soprattutto dopo per la costruzione della casa parrocchiale dove ha avuto degli interventi nei quali è riuscito a recuperare risorse economiche di un certo rilievo, ma soprattutto per quanto riguarda Tisoi è la fondazione del gruppo sportivo Schiara, se questo è stato diciamo la ciliegina sulla torta se vogliamo Siamo che Schiara si chiama in questo modo proprio perché sta sotto il gruppo della Schiara e quindi è un riferimento praticamente obbligato, qui vediamo anche lo stemma con i colori giallo-blu quindi riprendevano a quelli del calcio belluno No, sono giallo-nero Ah, giallo-nero? Sì, non si vede proprio... Comunque, i colori... Sono un po' dal tonico No, tranquillo, nessun problema Sì, beh, sul discorso dei colori c'è stata una bella battaglia all'inizio su come gestire perché venivamo dalla zona di Tisoi che era un paese prettamente democristiano e nella zona di Bolzano che era un paese che era chiaramente di orientamento di sinistra e quindi diciamo i colori erano rossi per Bolzano, bianchi, bianco per Tisoi e quindi già questo comportava un po' di attriti tra le parti Alla fine la soluzione l'ha trovata Angelo Chiabane che è stato il primo allenatore della squadra di calcio che ha proposto i colori giallo e nero che erano i colori in cui lui militava quando era emigrante in Belgio e così le parti si sono messe tutte d'accordo e si è andati avanti per la costituzione di... Il vostro gruppo della Schiara, Unire le Forze, senti alla fine un riconoscimento l'ha avuto perché c'è stata una intitolazione Sì, in effetti l'anno scorso, il 4 luglio dell'anno scorso il gruppo sportivo Schiara, sospinto in particolare ripeto anche da Angelo Chiabane il primo allenatore, ha deciso di intraprendere l'iniziativa di intitolargli il campo sportivo di Tisoi è stata una bella manifestazione anche se eravamo mezzo dentro e mezzo fuori dal problema del coronavirus e quindi non è che si potesse fare cose grandiose però è stata una bella manifestazione è stato un giusto riconoscimento che io ritenevo dovuto io lo ritenevo dovuto sia come figlio, questo sarebbe anche scontato ma anche come abitante di Tisoi e cittadino di Belluno perché effettivamente visto quello che aveva realizzato in giro un po' per il comune per le zone di Tisoi e Pozzano, penso che fosse un po' dovuto Senti, io qua sfogliando il libro trovo tante cose che mi fanno venire un po' le lacrime agli occhi perché è nostalgia, è passato tanto tempo tuo padre è stato amministratore anche in un periodo di grandi cambiamenti della città di Belluno il ponte degli Alpini che ha rivoluzionato la viabilità compresa anche poi la via che porta verso Salce e tanti altri lavori Sì, in effetti nel periodo quando lui è iniziato a fare l'assessore ai lavori pubblici era il periodo della ricostruzione dopo i disastri della seconda guerra mondiale era un periodo dove il comune metteva in campo le forze per strade, acquedotti, fognature e soprattutto con questi interventi, lui riusciva a fare le discese come ha detto a Roma per portare nelle casse del comune di Belluno tanti soldi e su questo era particolarmente ferrato Sì, peraltro diciamo che aveva un alleato non da poco perché c'era al suo fianco c'è una foto con Gianfranco Orsini che viene ricordato come sicuramente se non il più abile, certamente uno dei più abili e impegnati politici della città di Belluno Sì E anche in quel periodo c'è la realizzazione, infatti abbiamo visto adesso nella foto dell'ospedale nuovo di Belluno che prendeva corpo effettivamente la realizzazione dell'ospedale, poi c'erano scuole, infrastrutture varie, quindi ho voluto anche ricordare Gianfranco Orsini perché il rapporto con Orsini era nato dalla fine degli anni 40 mentre lavoravano insieme per rilevazioni catastali ma dopo si era rafforzato per tutto il resto della vita, visto che condividevano ampiamente gli ideali della democrazia cristiana e quindi era giusto ricordarlo Noi abbiamo raccontato poco del molto che c'è in questo libro, peraltro come avete visto è corredato da tante foto, chissà quante persone potranno rivedersi, ritrovarsi o riconoscere delle persone che hanno conosciuto e anche cercare di rinfrescare i ricordi di un periodo lontano ma allo stesso tempo molto vicino, questo libro dove si può trovare? Allora, si può trovare nelle librerie di qua di Belluno, in più si può trovare nella biglietteria di Tisò in occasione delle partite casalinghe dello Schiara, dopo vedrò un po' quali altri posti? Ecco una cosa che volevo aggiungere, tutto il ricavato viene devoluto allo Schiara. Perfetto, anche questo è il segno naturalmente della grande disponibilità di tuo padre. Allora abbiamo presentato il libro scritto da Angelo Viel, figlio di Giuseppe Viel, sindaco di Belluno, ma come avete sentito non solo, abbiamo dato anche le indicazioni per l'acquisto e naturalmente quello che peroro nella chiudere la trasmissione e ringraziare Angelo per la disponibilità, ringraziare voi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento della visione dei nostri programmi.